Uno dei fiori all'occhiello, anche perché sono io poi a gestirlo, è l'attività riabilitativa in acqua. Da qui coordiniamo sia le attività a Roma sia a Catania, stiamo prendo un servizio anche a Milano, ma chiaramente nel nostro centro abbiamo il servizio più importante. Soprattutto nel plurihandicap riusciamo a dare una serie di vantaggi, perché l'acqua, la temperatura calda a 34 gradi, produce già degli effetti mio rilassanti. Una persona che vive in una carrozzina tutta la vita, che ha deformità importanti, nel momento in cui viene messo in acqua trova la sua postura naturale. La leggerezza, la microgradità ci consente di fargli fare una serie di movimenti che non sarebbero possibili, mobilizzazioni che non sarebbero possibili su un lettino o in un'altra condizione. Questo è il punto di partenza per tutta quella riabilitazione motoria, grossomotoria, ma anche relazionale, perché nel momento in cui una persona sta bene con il suo corpo è più predisposto anche al dialogo con il terapista. Grazie. Grazie. Grazie.